Lara Rondinini si è laureata in una tesi di filosofia della scienza e sarà in continuazione proprio con il dibattito che abbiamo appena svolto. Lei si è occupata per il suo lavoro, questo caso molto controverso che sicuramente avete sentito, anche se poi i dettagli sono molto tecnici, che è il caso Stamina, e ci mostrerà appunto come questo si è evoluto. Ecco, è come una cosa che forse viene spesso dimenticata, che questi conflitti non sono sempre conflitti fra scienza e società, ma sono controverse scientifiche, cioè all'interno del mondo della scienza ci sono posizioni diverse rispetto a uno stesso tema, e questo viene invece tralasciato, invece è importante sottolineare che ci sono controverse scientifiche. Ok, salve a tutti, innanzitutto volevo ringraziare l'associazione, innanzitutto per aver creato e organizzato dei seminari su scienza e società, perché credo che sia insomma un tema molto fertile e che ogni giorno ha nuove sfaccettature, ecco non si finisce mai di parlarne, ha sempre nuove sfide, e poi esatto perché ho l'occasione di condividere un po' la ricerca che ho portato avanti qualche anno fa, e che tocca molti temi che sono anche venuti fuori nella precedente presentazione, infatti mi dispiace che sia andato via. Esatto, si parla di scienza e società come due macro dimensioni e allora ho detto vabbè partiamo dal concreto e capiamo un po' quali sono un po' le ultime news a proposito uscite nel contesto italiano su scienza e società e soprattutto anche spesso da un'idea di conflitto quasi di interiore forse all'interno anche di molti della comunità scientifica. La prima news che forse molti di voi hanno sentito è questo patto trasversale per la scienza che ha promosso il medico virologo Borioni che immagino sia venuto fuori ieri nel dibattito, un patto che in teoria è stato come un appello degli scienziati al mondo politico per dare più influenza, insomma che la scienza possa avere più influenza, più peso politico all'interno della comunità italiana, ecco come non sia mai sufficientemente considerata. Un patto che sicuramente ha delle buone intenzioni, mi condivido perché ci sono dei problemi che però a mio avviso non è comunque esente da critiche, ecco, e più che altro avere sicuramente imposta il problema fra scienza e società e più che altro la scienza tra le sue istituzioni, quindi la politica, un diritto in un determinato modo. Innanzitutto ho sottolineato il punto 2 dove dice nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica come il negazionismo dell'AIDS, l'antivaccinismo, le terapie non basate sulle prove scientifiche, eccetera, eccetera. Insomma mettendo una grande macedonia e forse anche un po' semplificando e banalizzando a mio punto di vista il procedimento e la ricerca scientifica, perché quasi si vuole trasmettere l'idea che la scienza sia qualcosa di monolitico, ma sicuramente se ci sono delle delle ricerche che si sono rivelate poi essere effettivamente pseudoscientifiche, forse quella più recente è stata quella del vaccino, la correlazione tra vaccino e autismo, all'altra però dire una terapia non basata sulla prova scientifica, la stessa idea di prova scientifica è problematica, esatto, perché una scienza esatta che si basi, abbia un criterio specifico dove è facile capire quale sia l'evidenza, forse se si riesce in fisica o in matematica, ma non di certo in terreni, in ambiti di ricerca come la biomedicina, ecco dove anche la nozione di evidenza medico scientifica è estremamente problematica. E dall'altra c'è un'idea che è sempre sottesa a molti interventi che sono fondamentali di comunque scienziati nell'ambito italiano, un po' antico, un po' datato, in quanto appunto la comunità italiana non ha un sufficiente grado di alfabetizzazione scientifica e quindi se invece fosse più informata sulla scienza, sul metodo della scienza, allora molti problemi non ci sarebbero, molti dibattiti che ci sono adesso non ci sarebbero. Quello che viene detto è un modello del PUS, ovvero il Public Understanding of Science, dove quindi noi mettiamo più informazioni e dopo le persone di conseguenza avranno un atteggiamento molto più favorevole alla scienza, non sospettoso, cosa che in realtà anche qui la questione si incrina un po' perché invece numerose ricerche fanno vedere come a volte alcuni atteggiamenti di sospetto anzi vengono fuori da persone più scolarizzate con un livello di istruzione più alto. E l'altra notizia era un altro articolo che ho visto, che è uscito il 27 febbraio, quindi insomma due mesi settimane fa, che è di Gilberto Corbellini e di Michele De Luca. Gilberto Corbellini in realtà è un filosofo della medicina e della scienza, Michele De Luca è un ricercatore e anche professore universitario, quindi comunque sì, è un scienziato. E anche qui si vede come una sorta di conflitto a volte, credo che stiano passando, di cui la comunità scientifica si interroga. Perché da una parte c'è l'idea che non è considerata dalla politica in maniera sufficiente, e quindi una parte in questo articolo si afferma come infatti, a parte negli Stati Uniti, le comunità scientifiche sono politicamente poco influenti, cioè prive di influenza lobbistica. E quindi in un contesto, e qui ripartono parole già sentite prima, populista e sovranista diventeranno irrilevanti oggetto di strumentalizzazioni. Quasi a dire, purtroppo non abbiamo comunque un peso sufficiente e rischiamo di essere in balia di nuove decisioni politiche. E allo stesso momento si incrementa ancora di più questo aspetto dove si dice che l'Italia è un paese dove la pseudoscienza riesce facilmente ad avere più peso politico, almeno rispetto ai paesi anglosassoni e nord europei. Ancora più da quando in modo aggressivo si dice che la politica deve decidere su ogni materia. La conseguenza, se così fosse, sarebbe che a decidere cosa sia o meno scienza o pseudoscienza non sarebbero i risultati della ricerca, ma la volontà popolare, magari attraverso la piattaforma Rousseau. Sappiamo, insomma, è sicuramente provocatorio questo articolo, però c'è anche l'idea quindi da una parte ci vuole più coinvolgimento e più attenzione, dall'altra c'è quasi un timore totale da parte della comunità scientifica di essere sotto scacco della politica o ancora di più che questa opinione pubblica mai adeguatamente pronta decida lei cosa sia scienza o no. Ecco, secondo me c'è una sorta un po' di conflitto. Credo che i termini di questo problema, ecco, anche per evitare polarizzazioni, si possa leggere un po' quelle parole che ho utilizzato di Pietro Greco, anche lui giornalista, scientifico, professore, che appunto dice se il rapporto tra scienza e società è diventato così stretto, ineludibile, insieme così importante per l'una e per l'altra, allora occorre opporre attenzione a un terzo elemento, cioè la complessità. La frontiera lungo la quale si incontrano scienza e società è enorme variegata, quindi in ogni punto assume un carattere diverso e ogni punto è correlato con ogni altro, generando intere costellazioni di azioni e di retroazioni. Quindi non c'è un modo semplice per descrivere tessere, l'ordito interpenetrato tra scienza e società. Ecco, come vedere appunto questa complessità, questa trama tra la scienza e le istituzioni che ogni volta viene ancora di più che a contatto in cui è proprio immersa, quindi la politica, il diritto e anche la stessa opinione, insomma comunicazione al pubblico. Ecco, secondo me questo ordito si vede proprio in quei casi limite, in quei casi complessi come può essere il caso stamina, è per questo che ho scelto di prenderlo, cioè proprio prenderlo un po' come caso esempio, perché ovviamente lo vedremo, insomma ne sono successe di ogni all'interno e secondo me è proprio da questa complessità che si vedono un po' le nuove sfide, anche i nuovi intrecci che si creano fra comunità scientifica e quale questioni sono aperte che possono poi presentarsi in problemi futuri. E questo è un po' quello che mi sono, è stato l'obiettivo della mia ricerca che adesso verrà pubblicata, credo, fra due settimane, insomma, ormai è andata in stampa per l'ETS, per la collana Mephisto, che è una collana di studi sociali, filosofia della medicina e della biologia per l'ETS. Allora, per capire un po' questo caso stamina e la sua complessità, parto analizzando i protagonisti, le figure coinvolte, già qui c'è proprio purpuri di roba. Sapete che innanzitutto il caso stamina ha avuto dei creatori, ma soprattutto dei promotori e già qui ci sono stati medici, biologi, ma anche esperti di comunicazione, perché Vannoni, sappiamo, insomma, era un professore che ha pubblicato anche proprio il manuale di psicologia di comunicazione persuasiva, insomma, non era proprio il primo arrivato. E ovviamente i pazienti, dei pazienti speciali comunque, perché erano pazienti con rare malattie disabilitanti, quindi una situazione estremamente fragile, che però si sono rivolti in osocomi pubblici, in ospedali pubblici, questo avrà un ruolo determinante in tutta la vicenda. E poi sono entrate in gioco le autorità ispettive nazionali, come l'AIFA, che all'inizio aveva dato in nulla osta, poi finalmente è intervenuta, e anche in AS. E ovviamente dopo che i giornalisti, appunto i programmi di inchiesta come le Iene hanno, infatti, ha reso il caso un problema di dibattito nazionale, sono intervenuti ancora di più ovviamente in opposizione al metodo, però ci sono state anche delle opinioni contrarie, fra cui anche c'è stato quello di Camillo Ricordi, che adesso sta tornando in quanto, insomma, viene nominato dalla nuova Commissione Sanità, che sono stati comunque quindi o completamente in opposizione al metodo o anche però favorevoli o almeno possibilisti al metodo stamina. Tra i problemi sono i più ruoli politici, innanzitutto il direttore degli ospedali civili di Brescia e anche l'accordo che c'è stato con la regione Lombardia, nella parte della regione Lombardia, nel settore della sanità, e il comitato etico che ha dato l'ok e ha permesso a stamina di entrare in un ospedale pubblico. E la cosa che ha reso più interessante, forse più complessa, a mio avviso, il caso stamina è stato l'enorme ruolo dei magistrati, dei tribunali del lavoro, ma non solo, anche Deltar è intervenuto a vicenda ben due volte, ha cambiato le carte in gioco e infine il tribunale della Cassazione. Tribunali del lavoro che sono stati chiamati da ricorsi e che sono stati ben 516 i vari ricorsi su stamina e di cui tanti, tantissimi, più di centinaia sono stati insomma favorevoli al metodo, poi lo vedremo meglio cosa vuol dire questa cosa, i politici che hanno varato una legge ad hoc, compresi i ministri della salute e come ho detto i giornalisti. Per capirci un po' di più devo insomma farvi entrare un po' in merito a questo che a me è caso e questo metodo stamina. Ricordo come il metodo stamina esatto sia un metodo di estrazione, di coltivazione e manipolazione di cellule staminali mesenchimali, un tipo di cellule, adesso non sto a entrare nel dettaglio, lo spiego un po' meglio nel libro e in maniera spero chiara perché non sono una scienziata quindi ho cercato di portare le notizie più prettamente mediche alla portata mia fondamentalmente e un po' di tutti e che in teoria dovrebbero tramite questa coltivazione, queste cellule staminali dovrebbero trasformarsi in cellule di interesse come neuroblasti o neuroni e quindi secondo i promotori della metodica poteva intervenire in svariate malattie anche estremamente complesse come la SLA, l'asma, anche il morbo di Parkinson, sono state applicate in tantissime casi differenti. non si sa bene come consiste questo metodo, è sempre stato a posto un veto di sicurezza, di clausola, di segretezza, ci sono in realtà delle, possiamo avere un po' di contenuti da queste richieste di brevetto respinte in cui la soluzione sembra basata di base su acido retinoico e alcol. Comunque, e quindi non sappiamo molto di più, però sappiamo com'è entrata in Italia, com'è entrata tramite in realtà questa coltivazione di cellule staminali, è stata sviluppata da due biologi ucraini che Vannoni ha conosciuto in Ucraina, aveva un problema, una emiparesi facciale nel 2005, Vannoni è andato in Ucraina, è stato molto colpito da questo metodo e ha scelto di fondare questa società di ricerca a Torino, la Regene SRL. Iniziano delle prime somministrazioni a pagamento con delle autorizzazioni di medici e infatti già dopo due anni, nel 2009, inizia un'indagine, quella del pubblico ministero Guarinello, per l'applicazione di queste cellule staminali, però allo stesso momento il metodo stamina riesce a entrare per la prima volta in un ospedale importante che è il burlo galofalo di Trieste, inizialmente limitato a un accordo di ricerca, quindi limitato alla fase preclinica, anche se vedremo che non sarà così, perché grazie a questo accordo promosso dal dottor Marino Andolino, che era la loro direttore del dipartimento dei trapianti del burlo galofalo di Trieste. Continuano l'indagine del PM Guarinello avanti, infatti questa indagine del PM Guarinello porterà in realtà a un blocco del materiale di stamina al burlo galofalo di Trieste, ma Vannoni riesce a stilare un accordo ben più importante che è quello con l'ospedale, che è insomma credo il secondo più grande d'Italia dopo l'Umberto I di Roma e sicuramente uno degli ospedali più eccellenti comunque nelle range, nelle classifiche di ospedali italiani, che è l'azienda ospedaliera degli ospedali civili di Brescia. Riesce ad averla come metodo autorizzato e come terapia ad uso compassionevole, secondo questo DM turcofazio, che quindi viene data in casi speciali ma comunque permessa al di fuori di sperimentazioni cliniche, precisamente per 12 pazienti. La situazione appunto si fa comunque contorta, l'AIFA inizialmente da un laosta, poi si accorge che non ci sono di base tanto materiale scientifico su cui questo metodo, queste infusioni che vengono date e non sono neanche prodotte appunto in laboratori specifici eccetera, quindi interviene sul caso e nel maggio 2012 sospende completamente, tramite con un sopralluoglio ispettivo, sospende la somministrazione della metodica. Cosa succede però che le famiglie che insomma si erano rivolte a un ospedale pubblico, in quale l'ospedale pubblico aveva insomma proposto questa terapia e quindi a mio avviso si sono sentiti anche forse più fintisti di altro, nel senso come dire ok, decido di provare anche sul mio figlio questo tipo di terapia, chi sembra pioneristica, parliamo di cellule staminali, nuovi metodi eccetera, le famiglie quindi non ci stanno a questo blocco repentino e portano il ricorso ai tribunali e abbiamo che il 31 agosto 2012, scusate, ecco, 31 agosto 2012 il Tribunale del lavoro di Venezia, civile scusate questa volta, accoglie il ricorso della famiglia che voleva continuare la somministrazione e quindi disapplica il blocco dell'AIFA. Da questa iniziano, altre famiglie fanno il ricorso, iniziano altre sentenze positive, finché si arriva all'esplosione mediatica a febbraio 2013, quando forse ormai sapete che le Iene appunto dedicano dei servizi a delle famiglie come quella di Celeste, di Gioele, di Sofia, in cui i quali soprattutto la prima è stata su Gioele, che aveva appunto anche lui fatto il ricorso, il ricorso accolto, ma l'ospedale civile si stava cercando di temporeggiare, visto la situazione ambigua, visto anche l'indagine del PM Guarinello che stava portando avanti già dal 2009. Boom mediatico, interviene Celentano, la Lolo Brigida, tantissime persone, scrive anche, i genitori scrivono direttamente all'allora Ministro della Salute Balduzzi, in preda a questo caos, anche un po' molto forse emotivo a proposito del discorso che si faceva prima su gli aspetti emotivi nelle decisioni, viene fatto un decreto legge appunto ad hoc, cioè dove c'è una disposizione urgente in materia sanitaria, dove si autorizza la prosecuzione di questi trattamenti con cellule staminali mesenchimali, che erano già stati avviati nelle strutture pubbliche, anche se non sono appunto conformi a queste norme europee, le GMP, che sono quelle per i medicinali, e se c'è la responsabilità del medico prescruttore. Ovviamente dopo questo c'è una sollevazione di tutti, la comunità scientifica non solo italiana ma anche internazionale, interviene Nature, intervengono i Nobel della medicina, come appunto insomma intervengono un po' Science, intervengono un po' tutti. Il decreto passa nelle due camere, non senza problemi enormi. Il 23 maggio cambia anche, insomma ci sono dei rimescolamenti governativi, cambia il Ministro della Salute, diventa il Ministro onorevole Lorenzin. La legge viene convertita ma per fortuna con modificazioni, ovvero vengono riconosciute come una manipolazione di cellule staminali deve essere trattata come un medicinale, non una semplice trapianto, iniezione di staminali in un altro corpo. E quindi devono rispettare le normative europee nel caso e si promuove una commissione scientifica che deve valutare la possibilità di questo metodo, la validità anche di questo metodo. Il metodo viene bocciato, anche proprio la possibilità di sperimentazione totale, ma la vicenda non finisce qui perché il TAR, Vannoni fa ricorso al TAR del Lazio, perché appunto dice che molti membri della commissione scientifica si sono espressi già in maniera negativa, quindi era come una commissione viziata sul metodo, il TAR lo accoglie ed è tutto da rifare, quindi viene di nuovo ristipulata una nuova commissione scientifica. Intanto le cose però iniziano a cambiare, l'Espresso pubblica indagini anche degli interessi economici, il dibattito diventa sempre più forte, medici degli ospedali civili di Brescia iniziano a fare una credo anche corretta obiezione di coscienza, insomma si rifiutano di somministrare ulteriormente questo controverso trattamento. Nel 2014 verso la fine inizia, in continuo ancora comunque le sentenze dei tribunali del lavoro, finché si arriva nel 2014 che l'indagine del PM Guarinello continua ad andare avanti, c'è l'ultimo sequestro anche delle cellule staminali dall'azienda ospedali civili di Brescia, c'è la prima udienza, c'è il processo su Stamina e come sappiamo nel inizio 2015 Vannoni patteggia la pena a ben un anno e dieci mesi, intanto c'è la seconda presa d'atto dell'impossibilità di sperimentazione del metodo. Partono ancora ricorsi, la storia non è finita perché c'è ancora un processo bis su Stamina perché hanno cercato di portarlo in Georgia, quindi adesso è stato ancora ulteriormente rimandato, dopo anni non è ancora finita, non posso dare un punto finale sicuramente alla vicenda, però ormai ci siamo. Esatto, cosa sono queste, insomma avete visto un po' la storia, quali sono le questioni secondo me aperte dal caso Sbelli Stamina che si aprono in realtà ulteriori riflessioni fuori dal caso e ovviamente in questa sede magari, nel libro sono un po' indagate tutte e qui cercherò di dire qualcosa sulla scienza, sul rapporto tra scienza e diritto ma soprattutto sulla valutazione giudiziaria della scienza. Ho diviso in due piani come vedete, una parte sono le questioni più sul piano medico scientifico, perché da una parte tutta la vicenda Stamina ha portato a interrogarci sulla modalità di convalidazione delle nuove terapie, in termini legislativi, perché ci sono tante leggi e a volte considerate molto vincolanti anche da molti scienziati, perché ovviamente questo limita e blocca e rallenta la ricerca e l'applicazione poi delle sperimentazioni. Dall'altro anche teorico, perché tutto nella prima parte il dibattito si è sviluppato sulla scientificità del metodo, perché gli scienziati dicevano no, questo non è un metodo scientifico e invece vanno, ma non solo vanno Neandolina, altri medici sostenevano no, questo è scientifico. E quindi su che base insomma dai questi criteri di scientificità e si ritorna un po' al discorso di prima, ecco. Il mio libro in realtà cercherò di vedere almeno dei criteri guida come anche solo un'intersoggettività, quasi forse un atteggiamento a volte di chi porta, di chi propone delle novità, delle nuove scoperte in ambito medico-scientifico, ecco. E quindi cercherò di far vedere le aporie e i problemi nell'argomentazione dei promotori del metodo stamina, ecco, che però vanno presi in considerazione appunto, non solo sempre dure tot curto, non è così. Uno valuta le argomentazioni portate e poi sceglie quella che ritiene più corretta. Allo stesso momento, e questo sì ovviamente complica, dove in ambito medico, perché trovare delle evidenze appunto in fisica così forse è più facile, ma in ambito medico la situazione si complica. Ci sono dei metodi come i trial controllati, randomizzati, che cercano di dare un aspetto sempre più scientifico alla medicina, che però costa di problemi, soprattutto domina il probabilismo fondamentalmente nella scienza medica e anche tutto il problema poi dell'applicazione esterna, perché magari faccio delle ricerche perfette in laboratorio, poi però devo applicarla alle persone e nella persona c'è un'individualità che giocherà sempre un ruolo cruciale poi nell'applicazione della terapia che sto portando avanti. Allo stesso momento c'è stato ovviamente anche, è stato interessante che anche la definizione di sicurezza era molto differente. Cioè di base è stato dato nelle terapie ad uso compassionevoli perché sì, anche per allentare un po' in queste situazioni le maglie di cosa intendiamo per sicurezza. Insomma, come dire, sono in fin di vita, magari se il rischio è minimo, soprattutto la nozione di rischio, il rischio è minimo lo metto in secondo piano, mentre invece la comunità scientifica è intervenuta a proposito evidenziando un possibile rischio biologico di questa manipolazione non controllata, non regolamentata. E sullo sfondo ovviamente c'è un enorme problema di comunicazione della malattia e anche delle stesse terapie ai pazienti e soprattutto la loro assistenza. Perché ricordiamo, se uno legge le testimonianze, sono in realtà famiglie che avevano cercato appena le arrivate queste notizie bomba, insomma, che le hanno stravolta la loro vita di malattie rare e disabilitanti con rischio di morte ai propri bambini. molti proprio lo affermano, come si stiano sentiti completamente abbandonati dal sistema sanitario nazionale e anche come avessero interpellato diversi medici studiosi, ma nessuno gli dava risposta. Invece, tac, Vannoni te l'ha data subito, il giorno dopo ti risponde alle mail fondamentalmente. E poi, esatto, anche l'idea della cura compassionevole, insomma importante ma non esente da problemi. E poi c'è tutta la parte, invece, quando Stamina è entrato apprettamente nella politica e nei tribunali. Come abbiamo visto sono stati fatti dei provendimenti legislativi ad hoc, veloci. Ricordiamo come il Senato aveva proprio promosso in unanimità il metodo Stamina senza, equiparandolo di base a un semplice, come viene fatto il trapianto midollare, adesso non entro nei dettagli. E quindi, cioè, lei stessa derubrica, il Senato stava derubricando fondamentalmente questa manipolazione di cellule staminali, senza però una base, diciamo, una, almeno consultazione di esperti della comunità scientifica. E non è il primo caso, sappiamo che anche nel metodo di Bella, insomma, sono stati emanati subito dei provvedimenti ad hoc, quasi più sull'onda di, l'onda mediatica. E la cosa che così mi sono interessata è sicuramente, ovviamente questo aspetto a dirlo perché lo insominerò, e soprattutto nei tribunali c'è stato un problema di concezione del diritto della salute, perché sappiamo, e questo sarà emerso soprattutto ieri, l'importanza di un diritto alla salute collettivo, ma allo stesso momento, qua, soprattutto nelle sentenze, si è sostenuto un diritto, sicuramente una visione più individuale, ma anche più soggettiva, cioè dove un diritto alla salute deve essere inteso in senso ampio anche riguardo alle percezioni del malato, di ciò che ritiene giusto per lui che almeno gli dia un sollievo sia fisico ma anche psicologico alla sua condizione di malato. E questo è un tipo di definizione di salute che è presente in tantissime sentenze, anche della Corte Costituzionale. Quindi sono cose che ritornano poi ogni volta che una persona o un civile si sente il proprio diritto alla salute violato e quindi lo riporta in tribunale. E sicuramente poi la comunicazione di stanze, di controverse medico-scientifiche all'opinione pubblica da parte di scienziati e di giornalisti. Ma torniamo esatto alla recessione della scienza da parte dei tribunali, no? Perché il caso stamina, e qui insomma molti ricercatori, la comunità scientifica c'è andata giù abbastanza pesante, e vediamo questo articolo di Elena Cattaneo, dove infatti ha definito le infusioni in stamina a Brescia come un reato, non è una parola sicuramente leggera, voluto da un giudice e ha chiamato la vicenda stamina come un impazzimento giudiziario senza precedenti. E quindi come dire, insomma i tribunali non capiscono, non capiscono nulla della scienza, ma insomma hanno sbagliato completamente tutto. Dall'altra parte ovviamente, e questo si ricollega ad altre tematiche sempre molto italiane, infatti è uscito anche un libro abbastanza recente, la scienza in tribunale in cui dà tutti i problemi dei giudici quando si trovano ad analizzare la scienza, oppure quest'altro articolo che riprendeva in realtà tutta la parte dei vaccini, che proprio intitolano, lo vedete, quando le toghe fanno a pezzi la scienza. Cosa succede? Dall'altra parte, esatto, i giudici che si difendono, che dicono di base insomma c'era l'accordo dei medici, del comitato etico, dell'ospedale, noi abbiamo cercato di dare una soluzione ai problemi, alla violazione di diritti che la famiglia appunto aveva portato in ricorso. Quindi cosa ho scelto? Bisogna capire come la scienza entra nei tribunali e cosa però anche i fattori che sono in gioco, perché il tribunale è anch'esso un metodo di valutazione dei fatti, ma con delle specificità fondamentali e che hanno un peso poi nella insomma nel giudizio finale, nella sentenza finale del giudice. Guardiamo nel libro, infatti esamino un po' queste sentenze. Innanzitutto l'ho detto questo aspetto del diritto alla salute, che viene inteso in maniera insomma molto particolare, insomma c'è una determinata idea di diritto alla salute. E poi vengono per le sentenze favorevoli, sono soddisfatti i requisiti richiesti dal decreto sulle cure compassionevoli, ad esempio una corretta acquisizione del consenso informato, quindi per loro insomma erano state fornite tutte le informazioni a riguardo e anche no c'era il parere del comitato etico e c'era letteratura scientifica accreditata, anche se molti articoli sono della stessa Andolina ad esempio, o dei due biologi e non da enti esterni. Allo stesso momento c'è anche una valutazione positiva del trattamento e qui insomma è stato interessante perché questa valutazione positiva si basa spesso innanzitutto su quello che dice il medico curante prescrittore, che spesso è Andolina stesso. E dall'altro ha un riscontro appunto autopico, ovvero quasi dai video che le parti allegano nel processo e probabilmente i video fatti già anche dal caso Stamina e alcuni giudici affermano come è innegabile che questo bambino non si vede dal video, ha avuto dei miglioramenti. Ecco, insomma, e poi anche l'utilizzo della consulenza tecnica o di ufficio. E cosa succede? Che quindi alla fine i licenziati, scusate, i magistrati si trovano in queste controversie medico-scientifiche che entrano nelle cause portate nei tribunali, che loro comunque devono decidere su questi fatti partendo però dai fatti allegati dalle parti e sulle leggi chiamate in causa in quel momento, quindi il campo si restringe. E spesso ci sono diritti che collidono, cioè da una parte appunto gli ospedali civili di Brescia appunto che diventavano la parte opposta alle famiglie, quindi vuol dire no, noi non vogliamo somministrare questo metodo perché ormai vogliamo più somministrare questo metodo perché è stato procato dall'AIFA, dall'altra parte entrava un diritto alla salute che andava quasi in primo piano rispetto a questa esigenza di rigore di applicazione delle regole dell'ospedale. Anche i ragionamenti del giudice a volte sono non privi di obiezioni, si usano anche ragionamenti analogici, fondamentalmente se io, è stato applicato alla sorella di questo paziente questo metodo, queste cellule staminali, non ci sono state effette collaterali, allora posso ritenere che anche per la sua sorella insomma posso applicarlo, ma questo ragionamento analogico si è utilizzato in medicina ma non solo insomma perché sappiamo che non sempre può funzionare così, se io applico una terapia a una persona non è detto che poi sia possibile l'applicazione ad un'altra e un aspetto enorme è stato, un problema annoso è sicuramente il ruolo del giudice perché il giudice viene definito, si legge in tutta la teoria del diritto, come un gatekeeper, cosa vuol dire? Di base è lui che deve controllare tutte le nozioni che entrano all'interno del processo, comprese quelle scientifiche, il problema è che lui spesso non ha tutti gli strumenti e le competenze e quindi chiama dei periti, dei consulenti tecnici d'ufficio, che in Italia non sono esenti da problemi perché di base non c'è una regolamentazione stringente e spesso si basano su delle autocertificazioni e quindi succedono dei conflitti di interesse forte, secondo me il caso più eclatante è stato il dottor Montinari che era il consulente tecnico di ufficio in realtà nel caso della correlazione tra vaccino e autismo, dove in realtà questo dottor Montinari è un gastroenterologo che faceva delle visite a 300 euro a visita alle famiglie e sosteneva, esatto, sì, la causa dell'autismo nel tuo bambino è da rivedersi nei vaccini e ti collego all'associazione che porta in tribunale questo aspetto per avere un risarcimento e lui veniva preso come consulente tecnico d'ufficio, insomma, questo è un problema non di poca rilevanza in Italia e ricordiamo che se da una parte sicuramente la sentenza cerca di dare una soluzione e anche stabilire correttamente i fatti che vengono chiamati in causa, dall'altro c'è sempre il scopo primario che è la soluzione efficace delle controversie. Quindi tutti questi aspetti che hanno creato una situazione di scontro enorme tra scienza e diritto, perché cosa mi avete visto dagli articoli di giornale? Gli scienziati sostenevano esatto come minimamente non venissero considerate le stanze scientifiche dai tribunali e dall'altro diceva ok, no, non tribunali, abbiamo ok, capiamo questi problemi, però ci portano delle prove anche se a favore del metodo scientifico e ci sono in ballo anche degli altri diritti. Viene anche definito poi un diritto alla speranza di queste persone che è presente nelle sentenze. Che fare in questo cortocircuito che si verifica a volte spesso fra scienza e giurisprudenza? E non è che non succede solo in Italia, succede in tutte le parti del mondo e una delle più grandi studiose forse su questo, come sono anche ispirata, è Sheila Yasanov, che ha fatto proprio un libro, la scienza davanti ai giudici sulle decisioni delle corti statunitense in materia. Credo che sicuramente partire da un miglioramento delle regole per l'acquisizione di consulenti tecnico-odifici e periti possa evitare che ci siano delle derive delle decisioni dei magistrati. Dall'altro, insomma, secondo me va incentivato il dialogo, cioè perché di base è come se molti scienziati non sapevano a loro volta però anche quello che è in gioco quando la scienza entra nelle corti, tutti gli altri fattori. Dall'altra parte però ti trovi dei magistrati che sì dovrebbero valutare queste consulenti tecnici ma non hanno competenze e prendono spesso delle decisioni presso a pochiste, non so come altro chiamarli. E quindi per fortuna in Italia si stanno sviluppando dei progetti a mio avviso molto interessanti come quello dell'Università di Pavia che cercano proprio dei progetti di collaborazione tra scienziati e giudici, ecco, magistrati e anche creando ad esempio degli archivi proprio per caso riguardanti controverse medico e scientifiche anche tecnologiche e che quindi possa servire come un database di consultazione per i medici, per i giudici che sempre di più si ritroveranno a dover, insomma, decidere su questioni anche medico-scientifiche, ecco. Niente, concludo, visto che ormai i tempi stringono. Questo è stato fatto e fatto un po' la ricerca. Tutto ciò va sempre ovviamente ricordato come quando la scienza nel suo ambito della medicina entra in ballo ci sono sempre altri valori e quindi mi sembra anche oneroso ricordare, come un po' ci è nato prima, che anche tutto questo grande puttiferio su Stamina non è stato solo dato quindi da delle famiglie che hanno sentito il primo che li rivolgeva una speranza e si sono, insomma, come dire, non si sono rivolte a uno stregone, ecco. Cioè sono famiglie che erano all'interno di ospedali pubblici che gli sono stati portati dei progetti di ricerca e quindi lo dice, no, la madre di Sofia che purtroppo è deceduta un anno fa, lo dice, insomma, non siamo stati abbindolati da un cialtrone, se no io non l'avrei mai messa mia figlia in mani del genere, ma siamo stati accettati da un centro pubblico per un progetto di cure compassionevole. C'erano primari e persone interne con la struttura che si occupavano di tutto. E ovviamente cosa ribadisce che questa mamma? Sì, adesso c'è stata l'onda mediatica, poi l'onda mediatica, il pallone si è sgonfiato, che è successo? Che di base le cose sono tornate come prima, cioè che per bambini malati di slasma, eccetera, i problemi, le famiglie che si trovano con queste situazioni hanno dei problemi enormi. Non c'è un'adeguata assistenza domiciliare, un percorso sicuramente rapido e anche una formazione dei genitori a capire come reagire in determinate situazioni in cui il proprio malato si ritrova e quindi di nuovo c'è una sensazione di abbandono. Nel libro cerco anche di esaminare quali tipi di associazioni e progetti però sono presenti in Italia per cercare di cambiare un po' questa situazione. Ecco, mi fermo perché se no non ci sento. Bene, molto interessante, molto stimolante e ci ha restituito una complessità di un evento che è stato presentato in maniera ovviamente molto semplicistica, come appunto questi termini ciarlatani, stregoni, sono termini che non aiutano veramente a comprendere come si evolvono questi fenomeni. Domande, commenti? Prego. Non a caso in quel periodo è stata nominata senatrice, non è solo senatrice, senatrice a vita una giovane scienziata dal precedente Presidente della Repubblica, proprio con funzione di vigilanza su eventuali. Cioè io capisco che la scienza sicuramente ha il suo valore perché vengono fatti esperimenti, vengono fatti studi notevoli, però poi bocciare sulla base di un, non si capisce cosa, un metodo, dichiarandolo non scientifico, vabbè, però anche se tu volessi dare una mano alla scienza potresti studiare sotto un'osservazione, perché poi questi li facevano in ospedale, non è che li facevano nella casa di Vannoni, no? Quindi sotto stretto controllo, solo che probabilmente, torniamo sempre lì, la questione è il business che se ne fa poi in definitiva. Infatti gli interessi ci sono stati, ci sono stati quei legamenti, ma soprattutto anche proprio carenze di chi doveva controllare questa nuova metodo proposto, ecco. ma per fortuna ovviamente, cioè nel mio libro, ovviamente è contro, diciamo, si fa vedere tutti i problemi del metodo stamina e per fortuna ovviamente che si è intervenuto, che persone come Elena Cattaneo sono intervenute al proposito. Rimane che secondo me a volte però, una Cattaneo o altri gruppi, c'è una riduzione un po' di alcuni aspetti del problema. Esatto, anche quello che è stato detto dei giudici, che sicuramente, insomma, a volte, appunto io nel libro prendo proprio i contenuti delle sentenze, a volte fanno quasi mettere le mani nei capelli, però d'altra parte non è sempre così, cioè ci sono delle cose argomentate, ecco, e a volte si tende a dare un'unica visione sul perché è successo questo problema, ecco, per realtà non so se ho risposto. Sì, la mia visione sul perché è un'unica visione sul perché è una mia visione che è un'unica visione sul perché è un'unica visione sul perché è un'unica visione sul perché è un'unica solo una domanda. Mi pare che da questa esperienza del metodo stamina sia uscita quella definizione del diritto alla salute, no? È nata lì? Prima domanda, no? Sei nata lì? Sei nata lì? Come si può pensare di stabilire un diritto alla salute? Posso capire un diritto alla sanità nel senso di servizio, no? Ma diritto alla salute è come dire diritto alla ricchezza, diritto all'eternità, cioè è una cosa che non dipende da noi. Però è costituzionale, l'articolo 32 della nostra Costituzione, proprio se volete lo possiamo anche guardare perché è molto interessante, è un diritto costituzionale, quindi le famiglie hanno portato, hanno anche decretato le decisioni dell'ospedale civile di Brescia di sospendere tutti come anticostituzionali, perché di base sono andati a ledere il mio diritto alla salute. E no, no, però proprio si chiama il diritto alla salute. Qual è il problema? Che all'interno del diritto alla salute, cioè sia, sono tutte e due le sfere presenti, anche di questo ne parlo nel libro, cioè sia la salute collettiva e quindi le decisioni che anche lo Stato deve prendere per tutelare la salute collettiva, lo sappiamo anche nell'ultimo aspetto dei vaccini, ma dall'altra rimane ed è un valore costituzionale anche il diritto individuale alla salute. È un diritto individuale alla salute che nel corso degli anni la Corte Costituzionale, che proprio quindi dà l'ultima parola diciamo su questo diritto, l'articolo 32, ha emanato tante, tante sentenze e il cui contenuto è stato ripreso, da tutte e due, è stato ripreso sia dalle sentenze sfavorevole che quindi hanno bocciato il ricorso delle famiglie e anche queste sono analizzate, ma anche dalle famiglie e dalle, scusate, dai magistrati che hanno accettato. Perché, guarda se, prendo un attimo il testo ovviamente perché, visto che ce l'ho qua, se mi dà solo un secondo, beh c'era anche nella, c'erano delle definizioni proprio interessanti a mio punto di vista. Devo solo trovare la pagina, perché è proprio la citazione della Corte Costituzionale e della Cassazione. Eccola qua. Scusate, non trovo subito la pagina. Comunque di base, c'è proprio l'idea, c'è quello che personalmente mi ha stupito, ecco ci sono, dove chiama, esatto, anche la Corte Costituzionale del 20 maggio del 1998, secondo la quale all'articolo 32 è un articolo che tutela la salute come bene proprio primario e assoluto, che deve essere riconosciuto come un valore precettivo e non meramente programmatico, quindi che va anteposto a tutto, fondamentalmente. E allo stesso momento viene anche ripresa questa parte qua. Ecco, uno dei motivi appunto che era stato anche dato l'ok era che questi malati si trovavano in una situazione, quindi infatti erano tutti provvedimenti d'urgenza, che se il Tribunale avesse rinviato il giudizio, probabilmente il bambino non ci sarebbe stato più, perché gli avevano dato una speranza di vita di sei mesi. E quindi il giudice di base ha detto, ok, loro hanno questa speranza, per loro di base è stato violato questo diritto alla salute e non posso, ho un tempo ristretto, non posso neanche prolungarmi ulteriormente nella mia decisione, perché se no rischio che la parte che è stata, insomma, alla quale sono stati lesi i diritti, rischia di non esserci più. E allo stesso momento, esatto, c'è una definizione, esatto, che il diritto alla salute è nel nostro ordinamento una dimensione sicuramente più ampia di quanto non possa derivare dal mero diritto alla cura o all'assistenza, no? Quindi c'è un riferimento alla tutela della dignità umana, che consente di ritenere che le condizioni di saluto e oggetto della previsione costituzionale considerano non solo con l'approntamento dei mezzi destinati alla corrigione, ma anche a ogni mezzo che quant'altro che si possa fare per alleviare il pregiudizio non solo fisico, ma anche esistenziale dell'assistito. Ok? Quindi il diritto costituzionale alla salute è complesso, è quello che a volte non si legge, c'è anche tutto il caos che c'è stato dei vaccini, perché è un diritto complesso, ci sono enormi sentenze che vanno a volte al di là di quello che la comunità scientifica, insomma, cerca di sostenere in quel momento. Non so se ho risposto, spero di aver risposto alle sue obiezioni. Faccio io un breve intervento. Si è citata la Cattaneo, che è sicuramente una scienziata molto importante, con una grandissima reputazione, però ci sono anche altri scienziati che hanno posizioni diverse. Recentemente la polemica sul convegno sull'agricoltura biologica ha tenuto al Politecnico, anche lì polemiche. Beh, ci sono persone come la Cattaneo che ritengono che il biologico non dia quello che promette, ci sono altrettanti scienziati nella stessa Università di Milano, nei dipartimenti di Agraria, che dicono cose contrarie. Cioè, bisogna far capire che sono controversie all'interno della comunità scientifica, che hanno pari diritto, pari dignità e l'unico modo è confrontarsi, non in modo ideologico, ma è quasi impossibile, però sembra che ci sia appunto la scienza da una parte, la Cattaneo e tutti gli altri ciarlatani dall'altra. Non è così e in parte sono proprio i mass media a presentare queste posizioni, perché se andassero a intervistare anche altri scienziati queste cose non emergerebbero. C'è questo esatto team di ricercatori, comunità che avverte questo problema, cioè di poca considerazione da parte della politica, dell'opinione pubblica, delle loro istanze, di quando sono importanti. Quindi è lodevole da una parte che si stanno mettendo in gioco di prima persona, dall'altra, a mio punto di vista, c'è una visione della comunicazione scientifica molto positivista e anche datata, a volte che non rende della complessità del problema. Questo è un po' secondo me il problema e che alimenta, che secondo me non è risolutiva. Cioè come diceva anche l'intervento di prima, conta veramente che un Burioni con un atteggiamento un po' supponente mi dica tutti quelli che la pensano diversamente da me sono tutti degli ignoranti fondamentalmente o esatto questo avviene, tutti questi casi stamina avvengono perché le persone, diciamo, nei livelli più bassi di scuola di alfabetizzazione scientifica d'Europa. Per me è molto riduttivo, forse invece c'è proprio il problema opposto, che a volte manca quello che viene chiamato il public engagement, cioè il coinvolgimento pubblico a volte della comunicazione scientifica. Diventa come un percorso, una comunicazione binaria che, non so, secondo me bisogna iniziare a porre i problemi in un altro modo, è quello che un po' cerco il mio modo di fare, insomma, al fine c'è, uno prende una posizione, non sto dicendo che non bisogna prendere posizioni, però non partiamo anche se da preconcetti, analizziamo quello che un'altra visione dice e non semplifichiamo i problemi, insomma, non solo dire sì, stamina la pseudoscienza perché siamo un popolo e soprattutto i nostri politici non ci considerano abbastanza come scienziati. È riduttiva, a mio punto di vista. Altri commenti? Possiamo chiudere? Va bene. Allora, grazie ancora, grazie di tutto. Grazie.